buongiorno orchideri di mirosolo questo è un nuovo ibrido è la brassavola nodosa presso fronitis vittigiana è un libro che ha fatto mio figlio il mondo è uno dei suoi ibridi adesso questa è la prima fioritura che fa gli altri registro dice ma non so cosa dai ha detto facciamo un concorso che gli trova il nome più bello gli mandiamo una pianta in omaggio ho preso spedizione allora l'idea era questa facciamo questo concorso concorso su facebook nel gruppo orchidea una medicina per l'anima adesso stasera metto sulla foto e anche come si svolge questo concorso allora dovete trovare il nome più il nome più votato sarà quello che vince l'orchidea porterà questo nome e gli manderemo a chi ha trovato questo nome appunto una pianta un libricino in omaggio così perché ecco però perché quando mi ha cominciato a registrare i primi ibridi mi ricordo il primo ibrido l'abbiamo registrato nel 96 97 mi pare c'era qui ancora franco popoli lui è andato in costa ricca nel 97 per cui il 96 97 doveva registrare gli ibridi e non sapevamo come registrarli allora l'idea era quella di dargli un nome italiano famoso nel mondo con pozzi però non era bello pozzi oppure morosolo morosolo in sera non è bello allora dopo infinite chiacchierate serali siamo state qui delle sere a pensare a come fare proprio ho avuto l'idea di dargli il nome di pozzi con un nome italiano famoso nel mondo allora abbiamo messo giù una lista di nomi per esempio della musica per esempio allegro mosso combrio andante l'abbiamo ascoltato e tutti questi nomi della musica preludio minuetto poi il delle grandi città le città famose venezia milano ponte di rialto rialto tutto estero e qua oppure i grandi artisti italiani michelangelo raffaello e poi abbiamo questa lista con alcuni nomi e man mano che fioriva un ibrido guardavamo l'ibrido e con la lista dei nomi cerchiamo di trovare di abbinarlo uno di questi nomi con di pozzi per esempio il primo che registrato è stato di pozzi combrio allora abbiamo andato via la registrazione di rasola elia di pozzi con brio e all'rhs c'è un risposto che il massimo è tre nomi per cui ci consigliamo di attaccare di e porzi tutto in una parola per praticamente diporsi una parola con brio ecco adesso qua dobbiamo trovare un nome il nome più bello che avete in mente per questa qui da binari a diposi ok concorso è questo adesso stasera lo mettiamo tutto su facebook arrivederci alla prossima condividete pubblicizzate tutto il resto mettete mi piace grazie